Emilio Mazzoni con Rainer Vaccari. Da quanto tempo lo conosce? Dal 1978. Qual è la colpita di questo artista? All'inizio ricoprì il suo talento pittorico, che era un talento veramente raro, il suo segno. Poi invecchiando ho preteso di fare la terza mostra che faccio dopo 18 anni e ne ho fatta una nel 2002. Qua la quarta mostra, una nel 1979, una nel 1981-82 che l'ha consagrato, una nel 2002-2003 e una dopo 17 anni. Perché questo momento di apertura, di globalizzazione, di possibilità di tutto, di più di tutto, l'artista l'ho trovato pieno di energia e molto migliorato anche culturalmente. Quindi ho pensato di dare un'altra volta un segno alla sua pittura, di dare di tutto un incontro con la sua pittura. E mi sembra di aver fatto bene, infatti mi stanno dando ragione. Faccia un invito per i visitatori. E che vengono a vedere in un momento dove praticamente le opere infatti contano fino ad un certo punto, vengono a vedere come ripinge un bravo pittore. E che vengono a vedere come ripinge un bravo pittore. E che vengono a vedere come ripinge un bravo pittore. Grazie a tutti.